Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nostro nuovo appuntamento di messaggi e profezie 6 dicembre 2018. Oggi iniziamo, come già avete visto dalla miniatura, parleremo di una profezia che la Vergine Maria ha detto a Edson Glaube, l'andremo ad analizzare successivamente, ma prima andiamo a vedere il messaggio che abbiamo trovato qui in internet, non ce ne sono moltissimi e abbiamo dato ieri, se vi ricordate ne abbiamo dette già molte, ma quello che possiamo vedere oggi è il messaggio riguardante Anne Meewis in Germania e del 2 dicembre del 2018. E che cosa dice la, credo la Beata Vergine Maria, dice questo? Amo tutti i miei figli e vorrei lanciare loro l'ancora di salvezzi in questo tempo finale. Possono afferrarla, quindi stiamo in un tempo finale, come già sapete, parliamo degli ultimi tempi, quindi stiamo alla fine dei tempi, questo sta dicendo nei messaggi in varie parti del mondo, non solo qui in Germania. Ora ho iniziato la divisione, essa separa i giusti dai loro persecutori, sarete protetti chi crede ovviamente in Dio. Quindi, figli miei, vi vogliono far credere di poter facilmente annullare un matrimonio, anche questa non è mia volontà e desiderio, il sacramento del matrimonio è santo. Sappiamo bene, Gesù lo dice benissimo nel Vangelo che cosa accade con la questione del matrimonio. Non è ammessa la separazione o il divorzio, ma come ben sapete la legge di Mosè prevedeva, per gli ebrei, il divorzio, il ripudio della propria donna, anche per cose molto futili. Ma è ovvio che Dio questo non aveva, la sua volontà non era quella, ma per un'opera all'epoca di, possiamo dire, di misericordia, chiamiamola, se vogliamo dire così, per un'opera, ecco, per la durezza del cuore delle persone, disse, se non erro, per la durezza del cuore delle persone, se non erro, dovrebbe essere questo. Il punto adesso non ho qui davanti a me il testo, ma se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, non si poteva fare fondamentalmente. Mosè gli era stato concesso, ma si sa che uomo e donna non deve essere separato, quello che Dio unisce l'uomo non lo può separare. E' un po' come il discorso che avevamo visto ieri a Trevignano Romano, mi parlo ieri un l'altro ieri e adesso non mi ricordo bene, che si parlava che la parola di Dio è una e immodificabile, e questa è la stessa identica cosa. E dice anche questa, preparatevi carissimi, perché la mia ora si avvicina. Quindi si intende come seconda venuta di Gesù o come l'avvento del Natale. Qui si continua il messaggio, dice, l'avvento è una preparazione alla nascita di Gesù Cristo. Siate in attesa e preparatevi per la sua venuta, siate sempre pronti a ricevere il sacramento della penitenza. Non è lontano il giorno che il vostro Signore si appresti, cioè che si presenti dinanzi a voi. Quindi, e dice ancora, mio figlio Gesù Cristo apparirà presto in grande potenza e gloria nel firmamento. Quindi, non solo stiamo nel periodo dell'avvento, quindi nel ricordo della prima venuta del Signore. Quindi, quando Gesù è nato a Bethlehem di Giudea, ovviamente, come le profezie poi decidevano. E certo, le profezie descrivevano come Dio aveva detto che sarebbe nato quel virgulto di Yes, cioè quella della casa di Davide, diciamo un'erede della casa di Davide, diciamo così, adesso per dare un'indicazione almeno spicciola, e da lì sarebbe venuto il Messia. E tanto è vero che così è accaduto. È nato a Bethlehem di nostro Signore Gesù. Quindi, grandi segni nel Sole, nella Luna e nelle stelle lo precederanno nel cielo. Prestate molta attenzione a tali segni. Ecco, questi segni, oggi vi metterò in descrizione un segno che è avvenuto a Quarantano. appare lì la Madonna, cioè parliamo sempre di apparizioni presunte, la Chiesa sta seguendo, ovviamente. E io vi metterò lì il video che poi potrete anche analizzare. La questione della visione del Sole ad occhio nudo, questo è avvenuto pure a Fatima, è avvenuto a Lourdes, è avvenuto in altre parti dove le apparizioni più o meno riconosciute dalla Chiesa. alle Tre Fontane, faccio un altro esempio, a Trevignano Romano, ad esempio, sta accadendo a Tanguera, a Giacareio. Adesso ve ne dico alcune, ma diciamo, quello che dice proprio, attenzione, ai segni che arrivano. Vedete, le date non esistono, le date. Quello che bisogna vedere sono i segni e dove devono servire per la prossima preparazione. La mia e vostra amata madre attende la vostra conversione. Quindi, questi segni servono effettivamente per la conversione, per capire, tra virgolette, che i tempi sono arrivati. Ora, la fede non deriva da un'apparizione, parliamoci chiaramente. La fede deriva dal Vangelo, da quello che dice Gesù, fondamentalmente. Ovvio che le apparizioni, come sappiate bene disse l'angelo Gabriele, San Gabriele Arcangelo alla Vergine Maria, a Dio nulla è impossibile. Quindi tutto può avvenire senza volontà di Dio, comprese le varie apparizioni. Per questo che non bisogna spegnere lo spirito e avere un discernimento da chiedere al Signore, sempre, in tutti i momenti. Perché è dai frutti che si vede tutto quanto. Ovviamente, questi segni anche nei Cieli ci sono. Quindi, Natale è un periodo di attesa, quindi c'è l'Avvento, questo periodo forte come quello pasquale, esattamente della quaresima, e poi c'è questo dell'Avvento. Ma qui si fa riferimento pure alla seconda venuta, non solo al ricordo della prima venuta del Signore, ma anche alla seconda venuta di Cristo, perché non si sa quando il Messia ritornerà. Lo dice Gesù nel Vangelo. Quindi, non ci interessa la data, ma guardare i segni fondamentalmente. Questo era il messaggio che riguardava, ovviamente, oggi. Come dicevo all'inizio, una cosa che a noi ci aveva colpito, in modo particolare, era questa cosa su Papa Benedetto XVI. Io, come sapete, vi lascerò tutto in descrizione, sia da un punto di vista del video, come vi posterò, e anche quello che disse lui, il Veggente. Io adesso qui, più o meno, vi dico quello che lui ha detto fondamentalmente, ma non è tanto quello che ha detto lui, ma quello che gli ha detto la Vergine Maria. E dice questo. Il demonio, qui ci troviamo, scusate se non vi devo dire giustamente anche quando è stato detto questa cosa qui. Quindi, se non erro, vediamo un po'. Il 16 febbraio, nel 2018, Edus Calabre stava qui in Italia, non mi ricordo in quale paese, a Vicolo, che non so in quale parte d'Italia stia, ma, perdonatemi per l'ignoranza, ma andiamo al concreto, andiamo a vedere quello che cosa dice. Il demonio lavora tanto, il maligno, e vuole distruggere tutto, ovviamente. La Vergine Maria vuole fare il bene in mezzo a noi, dice sempre il Veggente. Una volta la Madonna aveva detto che metteranno in silenzio i suoi profeti attuali. Ascoltate bene. Una volta la Madonna aveva detto che metteranno in silenzio i suoi profeti attuali. Li faranno stare zitti per non farli dire che vedono che ascoltano lei. Questi tempi è adesso. Penso che siano chiare le parole. Noi dobbiamo pregare tanto. La Madonna mi ha detto che i tempi sono così difficili. Come che ho detto, lui dice, quello che ho detto in Amazzonia, ora lo dico anche a voi. Qui è scritto un po' un italiano non molto corretto, ma per prendere il discorso è questo. Quello che ancora allontana un po' il male, dice, testuali parole, finché è vivo è il Papa Benedetto. Quando il Papa Benedetto morirà, povera umanità, posso dire questo con tutta sincerità. Quando il Papa Benedetto morirà, poi lo leggerete che è un italiano un po' scorretto, dice, quando il Papa Benedetto andare via, povera Chiesa e povera umanità. E noi dobbiamo pregare molto. Quindi dice, quando il Papa Benedetto non ci sarà più, quindi morirà, noi dobbiamo pregare molto. Non dice la data della morte del Papa, perché obiettivamente solo Dio sa questo. Tanto è vero che lui dice questo, questo dice, e come si chiama, dice il Papa, Joseph. Cioè, Joseph, sarebbe Giuseppe in tedesco, arriva il mese di San Giuseppe. Non si sa mai che San Giuseppe possa venire a prenderlo nel suo mese o nel suo giorno. Ovviamente questo ipotizzava lui, credo, il Vengente, perché date non le ha date. Ha detto, chissà, casomai potrebbe accadere anche questo. Infatti penso che sia un pensiero suo piuttosto che un discorso della Beata Vergine Maria. Ma solo Dio sa quando, come e perché, ovviamente. Però, attenzione che questo è un altro punto in cui dice, attenzione a quello che potrebbe accadere successivamente. Quindi, dice proprio questo, lo ripeto, quando il Papa Benedetto morire, povera umanità, e quando il Papa Benedetto andare via, povera chiesa e povera umanità. E dice, noi dobbiamo stare sempre preparati come se fosse gli ultimi giorni della nostra vita, dice la Vergine Maria, gli ha detto a lui, al Vengente, nella grazia di Dio, ricevendo la Santa Eucharistia, confessandosi sempre, quindi spesso, si intende, e chiedendo la luce dello Spirito Santo. E ha detto, in Amazzonia, davanti all'altare della vostra casa, baciare il pavimento tre volte e chiedere, Signore, che non vai perda la feda nei momenti di prove difficili che arriveranno presto nel mondo. Cioè, dice, inginocchiarsi davanti all'altare, mi penso, della vostra casa, si intende della casa proprio personale, dove c'è la famiglia, ovviamente, e dice, Signore, davanti all'altare dove c'è la Bibbia, del Vangelo, un'immagine del Signore o della Vergine Maria, e dire, Signore, che non perda mai la fede nei momenti di prove difficili che arriveranno presto nel mondo. Quindi, significa, praticamente, che la situazione potrebbe essere forte, questa cosa qui. Quindi, questo è un messaggio, ovviamente, che io credo che c'è da considerare, ovviamente, nel senso che anche questo credo che sia quasi, credo che sia quasi concepibile che Papa Benedetto dovrà lasciare questa terra e andare alla casa del padre, e come sarà per Papa Francesco e sarà per ognuno di noi. Questo è innegabile, questa cosa. Però, quello che fa pensare è che una volta che lui muore, succede come segno, dovrebbe essere questo. Una volta con la morte di Papa Benedetto, succederanno vari eventi, che già sono stati, se uno ci pensa, già detti, poi alla fin fine succedono questi eventi, che già ci si ricorda con l'avvertimento, con tutto quello che dovrà accadere, ovviamente. Quindi, è un messaggio molto forte e che fa comprendere, ovviamente, quanto sia tosta la situazione successiva e anche attualmente precedente. Ora, solo Dio sa come, quando e perché, ovviamente. A proposito di quei segni che dicevo prima, che la Vergine Maria ha detto, ovviamente, ecco, metterò il video dell'apparizione del 13 novembre del 2018 a Quarantano, che si trova in Calabria, e nel messaggio si vede soprattutto, mi pare anche, che loro vedono questo grande sole. Si vede effettivamente anche dal video una forte luce, una forte luce forte, questo è il miracolo del sole, che tanti dicono che non è possibile, alcuni dicono che è possibile, io dico semplicemente una cosa, a Dio nulla è impossibile, ognuno può pensarla come vuole, ma a Dio nulla è impossibile, non si può mettere le briglie al Signore, se Dio vuole fa tutto, ecco, non si può, lo Spirito Santo soffia dove vuole, ecco, questo è per dare una cosa. E poi metterò anche un video, e sempre, ripeto, tra le, come vi ripetevo prima, tra le, tra la descrizione, anche quella del messaggio che dice la Beata Vergine Maria Trevignano, e c'è un discorso che fa Gisella, che sarebbe la leggente, e che è da ascoltare, da comprendere nei propri cuori, ma questo, come soprattutto i messaggi, soprattutto i messaggi, ma soprattutto, come dico sempre, il Vangelo in primis, e poi i messaggi. Quindi, questo è quello che accadrà dopo la morte di Papa Benedetto, è un messaggio molto, da una parte triste, ma dall'altra, se Dio questo sta mettendo in gantiere, come si suol dire, si vede che così deve essere, se Dio permette questo, bisogna solo che pregare tanto, pregare, pregare, pregare. Questo è l'unica cosa che si può fare, e basta. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata, Dio vi benedica, gloria e onore a sempre al nostro Signore Gesù Cristo, la gloria va a Lui, e ringrazio il Signore per gli iscritti nel nostro canale, e siamo arrivati a un numero, ringrazianti Dio, a 38, ma grazie alla gloria di Dio, noi non facciamo nulla. Iscrivetevi al nostro canale, se Dio vuole, diffondete i messaggi della Vergine Maria e il Vangelo, e Dio vi benedica, a voi e a tutte le vostre famiglie. Pregate per noi e per tutto il mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo.